Un riconoscimento certamente importantissimo perché va nella direzione che questo ospedale ha sempre avuto, quella della umanizzazione, del mettere il paziente al centro dell'attenzione. Ricordo anche in questo particolare settore noi siamo molto impegnati perché noi siamo per la vita e quindi l'ostetricia, la pediatria, i bambini sono nati con l'opera Don Calabria. Ricordo è nata come casa dei buoni fanciulli, Don Calabria ha fondato la casa dei buoni fanciulli e poi si è naturalmente espansa in tutto il mondo con varie attività. E quindi per noi è un riconoscimento importantissimo e che riconosce a questa struttura la parte più importante di noi che è l'umanità. Un riconoscimento importante ma soprattutto è importante l'attività che in questo ospedale, il Sacro Cuore Don Calabria, è da anni ai primi posti all'attenzione e ai vertici del sistema sanitario non solo regionale ma direi a livello nazionale. Per noi è importantissimo, importantissimo perché è un percorso duro, difficile e ci tengo a sottolineare che ancora oggi nonostante gli sforzi da più parti e soprattutto anche dell'Unicef che è impegnatissimo in questo programma, ben 7 milioni e 600 mila bambini ancora non sono allattati nel mondo, non sono allattati nemmeno una volta ancora nel mondo. La Regione Veneto, la Direzione della Prevenzione della Regione Veneto ha investito molto sul progetto che Unicef propone a livello internazionale Ospedali e Comunità Amici del Bambino, tanto che ha dato il nome Ospedali e Comunità Amici del Bambino MS Unicef a un programma regionale con l'intento di utilizzare lo strumento Unicef del percorso per diventare ospedale amico come scelta politica di prevenzione, di promozione dell'allattamento per tutta la Regione. Cosa significa? Che su 37 punti nascita della Regione Veneto 26 sono in percorso per diventare ospedali amici del bambino, 7 di questi 26 sono già riconosciuti e l'ospedale di Negrà è dentro questa rete, è il settimo ospedale in Veneto riconosciuto e fa parte di questa rete regionale molto importante. Il programma sta crescendo a livello nazionale, stanno crescendo anche i numeri nati negli ospedali amici nonostante la denatalità generale nel paese. È un programma molto importante per noi proprio perché denota l'attenzione a questo primissimo periodo della vita, anzi della gravidanza, quindi da quando la donna rimane incinta tutto è percorso nascita e i primi due anni di vita è un progetto che rientra, cioè il nostro progetto rientra in questo più grande dei mille giorni e quindi è molto importante proprio per l'importanza che questi mille giorni hanno per il resto della vita del bambino. Questo deve far pensare, ma deve far pensare ancora di più il fatto che tanto più i paesi sono evoluti, tanto più il reddito alto avrebbe come effetto quello di essere più attenti anche culturalmente a questo principio dell'allattamento materno. Ebbene no, le statistiche ci dicono purtroppo che un bambino su cinque non viene allattato dal seno materno contro uno su venticinque nelle aggregazioni più a basso reddito, nelle società più a basso reddito, quindi questo ci fa intendere che ancora anche quella di oggi, che è una celebrazione importante, è una tappa importante ma è solo una tappa, l'arrivo è ancora lontano.